L'arte curiosa. Questa magari la sapevi già, o forse no, chissà. Piccole pillole di curiosità che spero non sembrino supposte. Simboli e significati nascosti, interpretazioni e spiegazioni sull'opera. Quella cosa particolare sull'artista è magari sul fatto insolito legato a quella determinata opera d'arte. Ah, già che ci sei, iscriviti al mio canale, dai 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 dai, ti prego ti prego ti prego, grazie. La definizione di ritratto è la rappresentazione di una persona del suo volto, più o meno somigliante. Nell'antichità il ritratto però non è sempre stato somigliante come lo intendiamo noi oggi. Per gli egizi, ad esempio, le stesse immagini rappresentavano in realtà persone differenti. Se non si trattava di persone comuni, come ad esempio uno scriba, si cercava la bellezza ideale, la perfezione, sia nelle sculture che nei dipinti, con i volti di profilo o con l'occhio frontale, per renderlo più visibile. E divinità e faraoni egizi che rappresentavano loro stessi, le divinità erano tutti molto simili. Tranne l'eretico, Akhenaton, che è stato l'unico a voler cambiare la religione e quindi l'unico di cui ora conosciamo il vero volto, anche un po' deforme a causa dei suoi noti problemi genetici. Anche in Mesopotamia troviamo esempi di ritratti intenzionali, cioè di quelli standard, tutti uguali, che si distinguono solo grazie al nome abbinato, ma anche qualche esempio di ritratto tipologico che non assomiglia ancora alla persona rappresentata, ma che ci fa capire a quale categoria appartiene, grazie ad attributi specifici, a gioielli, all'abbigliamento, insomma che fanno capire a quale classe sociale appartiene. Dell'epoca di Hammurabi abbiamo questa testa, reale, barba, con ricci ben definiti, il sopracciglio unito come usava all'epoca, più che somigliante direi essenziale. E anche i babilonesi hanno rappresentato il re Assurbanipal qui di profilo, mentre va a caccia con tanto di arco e una barba stupendamente rappresentata in maniera molto precisa. Uno dei ritratti più conosciuti dell'antichità è questa maschera funebre, conosciuta come maschera di Agamennone in oro, realizzata a sbalzo e ritrovata a Micene. Un uomo con la barba, il naso ben dritto e sottile, le sopracciglia ben definite. Somigliante, chissà, probabilmente sì, o almeno abbastanza da renderlo riconoscibile. E negli affreschi minoici a Knosso ricompaiono anche i ritratti di profilo come le dame in blu dalle acconciature molto ricercate, con tanto di perle, decorazioni e l'inconfondibile profilo greco, il naso dritto, che non crea quasi nessuna curva all'attaccamento con la fronte. Sempre di profilo è anche il principe dei gigli, qui in una ricostruzione che ce lo mostra con un copricapo esagerato e il classico occhio rappresentato frontalmente come negli egizi. Diciamolo subito, i greci arriveranno davvero al ritratto fisiognomico, cioè somigliante, ma prima passeranno attraverso un lungo percorso che parte dal periodo arcaico, dove si punta più che altro a rappresentare la bellezza ideale, che in questo momento viene identificato in maniera molto sintetica, con la core, il kuros, la bellezza ideale femminile e quella maschile. Sono impersonali, potrebbero essere chiunque. Sono tutti un po' simili, anche perché hanno un forte legame con la religione, rappresentando il fedele nel santuario. Lo sguardo è fisso, gli occhi dal taglio orientale sono praticamente sbarrati. L'espressione non è particolarmente definita, c'è un mezzo sorrisino, quello c'è sempre, ma nulla di più. Del ritratto greco sappiamo molto anche grazie alle tante copie romane. Il problema del ritratto in epoca greca era una sorta di limitazione di natura morale. Non era proprio possibile esporre pubblicamente un ritratto, così come era vietata l'esposizione pubblica di qualsiasi immagine privata senza consensi particolari. Quindi immagini di volti, ce n'erano parecchi, ma tutte impersonali. Si ricerca il ritratto idealizzato nell'atleta, nel guerriero. Pericle, ad esempio, è un uomo dall'aria forte, con un copricapo importante, ma sappiamo che è lui solo grazie al nome inciso nella parte bassa del busto. Platone di Selanio, invece, ha già qualche caratteristica fisica ben specifica. Non è, insomma, un generico uomo barbuto. È comunque un po' idealizzato, ma è già un vero ritratto, un ritratto vero e proprio, o quasi. La bocca ha il labbro inferiore più pronunciato, le guance sono un po' in carne. Probabilmente sarebbe stato riconoscibile da chi lo conosceva nella realtà. Lo scultore Lisippo è il creatore del ritratto vero e proprio. In epoca ellenistica, quindi, raffigura Alessandro di Macedonia mostrandocelo con quello che era realmente un suo noto difetto fisico. Era costretto a tenere la testa leggermente reclinata verso la spalla, ma trasforma questo problema in opportunità e ce lo mostra quindi con questa espressione rapita, quasi come se stesse parlando con una divinità. E da qui in poi potremmo avere idea anche dei volti di personaggi storici famosissimi come Socrate, Aristotele o Ripide. Se per i greci molti ritratti erano a figura intera, per gli etruschi è il volto a dover rappresentare la persona. Del resto, basti pensare alle teste votive o al tipico vaso canopo. Sono quasi sempre ritratti convenzionali, tipologici più che fisiognomici. Ma dal sarcofago degli sposi, defunti con immagini idealizzate, si arriva pian piano a ritratti più realistici, anche grazie all'influenza romana. Nell'arte romana tocca comunque fare una bella distinzione fra ritratto onorario, pubblico quindi elegante e fiero, e ritratto privato, legato al culto degli antenati. Imparano da greci ed etruschi, i loro ritratti erano spesso somiglianti, ma anche con un tocco di espressività. Per legge, solo i patrizi potevano esporre le immagini dei propri avi, immagini conservate al chiuso, dentro armadi e tirate fuori nei funerali o in eventi particolari dedicati. A Roma, il ritratto inizia con scopo celebrativo, per ricordare l'imperatore e il suo valore, ma pian piano, dalla raffinata eleganza, si passa alla descrizione vera e propria. Acconciature, barbe, l'artista inizia ad osservare il soggetto con molta attenzione. Gli artisti romani, poi, erano spesso impietosi. I ritratti somigliavano davvero al soggetto, nel bene e nel male. Per esempio, Comodo aveva occhi sporgenti e uno sguardo un po' da pesce lesso. Decisamente sì, ma il soggetto magari era di pura bellezza. Allora, cari miei, anche il suo ritratto fedele diventava una gioia per gli occhi, come nel caso di Faustina minore, imperatrice e moglie di Marco Aurelio. Bellissima! Pensate che abbiamo monete romane con imperatori che al proprio ritratto abbinano una delle grandi opere che sono riuscite a realizzare. Ne troviamo alcune che indicano anche il passare del tempo. Ad esempio, il ritratto dell'imperatore Nerone, raffigurato in epoche diverse, dalla giovinezza all'età matura e decisamente possiamo dire che no, non migliora con l'età. Questi ritratti sulle monete sono sempre di profilo e saranno proprio queste monete alla base dei ritratti rinascimentali, ma di questo parleremo dopo. Nel Medioevo la religione è sempre presente ed è fondata sull'astrazione e sul simbolo più che sulla verosimiglianza. Il ritratto quindi è spesso dedicato a rappresentare Dio e i Santi. Nelle immagini funerarie ci sono ritratti di persone reali, ma si tende più a rappresentare il rango e il potere che il volto reale. Ed ecco quindi imperatori bizantini che si riconoscono dai loro dignitari di corte grazie alle corone, ai gioielli, alla oreola più che per la loro reale somiglianza. Nell'incoronazione di Ruggero II del 1130 nella chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio a Palermo si vede per la prima volta il volto del re Normanno. Ma è davvero lui? Ma, fateci caso, è uguale al Cristo che lo sta incoronando. Così come Sant'Ambrogio, nell'omonima chiesa milanese, ci mostra un volto che sicuramente ci sembra di aver già visto altrove. Ed ecco che grazie ad Arnolfo di Cambio arriva quella che probabilmente farà le prime rappresentazioni realistiche in Europa. Il personaggio rappresentato è vivo e reale. La posa e l'atteggiamento lo mostrano ovviamente al suo meglio. Forte, pacato, determinato con i simboli del suo potere, corona compresa. Il volto è solenne, per carità, ma cari miei, ha le rughe, è mortale e pur richiamando in qualche modo i ritratti romani è sicuramente somigliante. In pittura ci viene in soccorso addirittura Giotto, quando nella cappella degli Scrovegni rappresenta il committente Enrico Scrovegni nel suo giudizio universale del 1306. Il banchiere è di profilo e lo sono anche moltissimi altri dei presenti, angeli e santi compresi. L'artista probabilmente si autoritrae con un cappellino giallo vicino al suo amico Dante Alighieri, con la classica corona di alloro sul capo. A con Giotto compaiono anche le emozioni dei personaggi. Masaccio, nella sua Trinità in Santa Maria Novella, Firenze del 1428, ci mostra il volto di Dio e di Gesù in croce in maniera classica, ma poi mette in primo piano i committenti inginocchiati, forse Berto di Bartolomeo e la moglie, posti lateralmente di profilo fuori dall'arcata Cassettoni, dove c'è anche San Giovanni di profilo e la Madonna, che invece sembra quasi guardare verso lo spettatore. Se le figure sacre sono idealizzate, i committenti sono invece ben caratterizzati e anche arriconoscibilissimi. Nel Rinascimento il ritratto di profilo diventa spesso una scelta, ed ecco i ritratti quattrocenteschi di Pisanello, il primo a reinventare e a riproporre, e il ritratto come ai tempi degli imperatori romani, e proprio sopra medaglie che rappresentavano e glorificavano i vari signori delle corti italiane, come ad esempio i Gonzaga, gli Est, i Malatesta e i Visconti. Su di un lato il loro ritratto di profilo, e sull'altro lato della medaglia scene allegoriche, piccoli capolavori di inventiva e perfezione, realizzate in varie decine di copie, circolavano poi nelle corti, alcune sui dieci centimetri di diametro, altre invece grandi anche solo la metà. L'umanesimo ce lo ha insegnato per bene, l'uomo è al centro dell'universo, l'uomo è un individuo con capacità decisionali, ha una sua storia, un suo potere, una sua posizione nel mondo, e soprattutto un suo volto, spesso ben riconoscibile. Quando Pisanello si dedica ai ritratti classici come questo a tempera su tavola, riesce a darci tantissime informazioni anche in poco spazio. Questo ritratto è solo 28 cm per 19 cm, piccino davvero? L'artista è decisamente ancora tardogotico ed è famosissimo fra i suoi contemporanei proprio per questa sua scelta di rimanere un po' attaccato allo stile antico. Qui ritrae il Ducalionello in maniera sicuramente somigliante. La forma del naso poi è molto particolare, anche se qua probabilmente è un pochino idealizzata. I dettagli sono accuratissimi, dagli arabeschi sulla stoffa del vestito allo sfondo con varie piante che l'artista era di solito abituato a studiare dal vero. Anche quest'opera è piccina, 40 x 30 cm, anche qui Pisanello dichiara la sua fedeltà al gotico fiorito e a questo stile ancora legato all'arte di corte raffinatissima di cui era uno dei massimi esponenti. Probabilmente ci troviamo di fronte a Ginevra d'Este che sposa a 14 anni Sigismondo Malatesta. Morirà giovanissima, solo 21 anni, dopo la morte del figlioletto Roberto Novello. Qui è molto seria, con un'acconciatura elaborata, formata con un nastro bianco. Il vestito è accuratissimo, con ricami preziosi e perle che ripropongono il simbolo degli Este. Ma nello sfondo, bellissimo e per carità, con fiori e tanto di farfalla, c'è in realtà qualcosa che ci fa capire che questo ritratto è stato realizzato probabilmente quando Ginevra è già morta. La farfalla rappresenta l'anima, la siepe di Aquilege rappresenta il matrimonio, la fertilità, ma anche la morte. Il garofano e il fidanzamento e il rametto di Ginepro richiama sicuramente il nome, ma è anche presagio di morte. E nel 400 i ritratti non hanno come protagonisti solo gli imperatori. Certo, i nobili si fanno ritrarre più spesso. A volte questi ritratti sono miniature anche per presentarsi a distanza in caso di matrimoni combinati. Insomma, per vedere un po' che faccia avrà il futuro marito o la futura moglie. Ma con l'umanesimo e il ritratto arriva anche fra la nuova borghesia e diventa una sorta di obbligo sociale. Insomma, se conti qualcosa, un ritratto lo devi avere. Magari di famiglia, magari inserito in una scena sacra, come ad esempio la famiglia del donatore nel tritico di Memling, dove i laterali sono addirittura separati fra familiari maschili e femminili. Oppure un ritratto personale a figura intera o più spesso a mezzo busto e molto spesso di tre quarti, come gli splendidi volti di Antonello da Messina che quasi sogghignano mentre guardano fisso negli occhi lo spettatore. Oppure un ritratto di profilo, proprio per sottolineare quel sottile filo conduttore che ha portato i vari personaggi del Rinascimento ad essere importanti. Importanti tanto quanto gli imperatori romani raffigurati sulle monete antiche. Il profilo permette di mostrare questi personaggi con una certa eleganza. Sono composti, a volte anche un pochino idealizzati. O meglio, scelgono di mostrare al mondo il loro lato migliore. Basti pensare a Federico di Montefeltro, cui ritratto da Piero della Francesca insieme alla moglie Battista Sforza, dopo che un brutto incidente gli aveva devastato il lato destro del volto. Ed ecco che da qui in poi lo vedremo sempre e solo dal profilo sinistro, quello migliore. Abbigliamento, acconciature, paesaggio sullo sfondo sottolineano potere, valore, stato sociale di entrambi, proprio come succede anche nella Pala di Brera dello stesso autore, dove il volto di profilo del Duca di Urbino, un po' invecchiato rispetto al precedente, risalta anche grazie a questa armatura scintillante, realizzata in maniera incredibile con tanto di riflessi della stanza e delle luci di quell'ambiente. Quando il Pollaiolo ritrae questa dama, forse la moglie del banchiere De Bardi o forse Marietta Strozzi, chissà, crea quella che sarà poi per sempre l'immagine della bellezza e dell'eleganza fiorentina del 1400. L'ambientazione è all'aperto, con un cielo sfumato che sottolinea il volto. Il vestito, o almeno la parte che si vede, è curatissimo, con tanto di ricami e tessuto lavorato, che probabilmente è velluto con motivi floreali nella manica. I capelli sono acconciati a vespaio con diadema, perle e un velo trasparente che copre le orecchie, e al collo ha una collana di perle e rubini che probabilmente allude al matrimonio. L'attribuzione ad Antonio, o al fratello più giovane di dieci anni, Piero, è tuttora in discussione, ma il valore, la capacità tecnica e la resa finale di questi ritratti di giovane donne, no, queste sono cose sotto gli occhi di tutti. Le donne del pollaiolo sono sempre bellissime, elegantissime e con vesti ricamate in maniera raffinatissima, e così accurata da poter praticamente contare i punti necessari per realizzare quel particolare disegno, ora sulle mani, ora sul busto. Busto che a volte si intravede più di quanto dovrebbe, se consideriamo i volti perfettamente di profilo, perché il busto è un pochino di tre quarti, scelta questa decisamente voluta per poter avere più spazio nella rappresentazione della ricchezza dell'abbigliamento. Le scolature, poi, sono sulla schiena, così da poter quasi allungare il collo, che rende così il profilo ancora più elegante ed aggraziato. Anche nel caso del ritratto di Giovanna Tornabuoni del Ghirlandaio, ci troviamo di fronte a un ritratto post-mortem. L'aria è malinconica, anche se la ragazza è bella, acconciata in maniera ricercata e sicuramente ricca. L'abito, infatti, è forse di seta con colori sgargianti e si vede bene il contrasto con il tessuto delle maniche, differente dal resto del vestito, perché queste erano spesso staccabili e intercambiabili. La posizione è però rigida, molto seria, ha pochi e preziosi gioielli, ma con tanto di rubino vistoso appeso al collo, simile alla spilla appoggiata lì di fianco. Sullo sfondo c'è come una sorta di libreria, dove sono ben visibili degli oggetti, un libro di preghiere, semiaperto, quindi utilizzato. La ragazza è evidentemente religiosa, una collana che però forse è un rosario con grani rossi che potrebbero essere coralli e anche questo è legato alla religione, perché essendo rosso allude al sangue di Cristo. Insomma, a fine 400, ma anche per tutto il 500, trovare ritratti simili è piuttosto comune. Anche gli artisti più famosi scelgono di rappresentare personaggi famosi di profilo. Basti pensare a Botticelli, che ci mostra Dante di profilo, così da far risaltare quello che era probabilmente un suo tratto ben riconoscibile, un naso decisamente importante. E quando deve farci vedere, forse, qui le attribuzioni sono piuttosto combattute, ma quando ci mostra la bellezza di Simonetta Vespucci, amata da Giuliano De Medici e probabile modella anche per la sua venere e per la figura della primavera, la ritrae di profilo. Capelli mosti dal vento, un'acconciatura complicatissima fra nastri rossi e fili e fili di perle, con il busto anche qui di tre quarti, così da farci apprezzare la decorazione alla scollatura e quel medaglione così particolare al collo. Anche Leonardo da Vinci segue qualche volta, anche se non sempre, questo filone del profilo. Ed ecco a voi il ritratto su pergamena di Bianca Sforza, figlia illegittima del Duca di Milano, di profilo, con i capelli raccolti nell'acconciatura del quazzone, molto in voga alla corte sforzesca. Per buona parte del 1500 troveremo ritratti di profilo che pian piano lasceranno il posto alla figura di tre quarti e poi frontale. Il profilo non scomparirà mai del tutto e tornerà poi nei secoli successivi, per scelta, stavolta non per ritrovare legami con l'antico, ma per proporre immagini con un taglio magari fotografico e di sicuro effetto. Ma questa è decisamente un'altra storia, dell'arte ovviamente.